La settimana corta non piace a tutti gli studenti o perlomeno non piace così come è stata strutturata. Protestano i rappresentanti di vari istituti novaresi partendo dal liceo scientifico. Che cosa sta succedendo? Succede che dopo la proposta provinciale dell'eliminazione del sabato e quindi dell'attuazione della settimana corta sorgono diversi problemi riguardo lo studio. Se pensiamo per esempio che le classi quinte del vecchio ordinamento fanno un monte settimane di 34 ore sono costrette ad attuare due settime ore a settimana. Quindi vorrebbe dire uscire alle tre per questi studenti. Quindi vorrebbe dire automaticamente che il pomeriggio seguendo l'oraio dei trasporti chi è fuori Novara arriverebbe a casa a un orario improponibile tipo le 5.30-6. Quindi lo studio del pomeriggio verrebbe intaccato. Automaticamente si perderebbero tutte le attività sportive o insomma gli hobby che sono extrascolastici. Io essendo di Novara torno a casa alle quattro. Ci sono persone che escono, devono prendere il treno, arrivare a casa alle 5.30-6 ed è improponibile studiare a quell'ora. E l'alimentazione, mangiare tutti i giorni un panino non è salutare. Perché un panino? Non ci sono mense perché non ci danno i soldi per il riscaldamento, non li danno per le mense. Comunque dobbiamo mangiare anche in un tempo limitato perché appunto dobbiamo rincominciare le lezioni. Senza contare poi gli altri problemi. Io pratico sport a livello agonistico e faccio due campionati. Mi alleno tre giorni a settimana più il sabato e la domenica faccio partite. Questo sport lo vado a perdere, come me, molte altre persone. A liceo scientifico che cosa state facendo? Il 4 di settembre ci siamo riuniti in consiglio d'istituto. E il liceo scientifico, appunto, Antonelli, ha deciso di prendere atto di questa decisione della provincia, di chiedere pareri legali riguardo all'interruzione del riscaldamento del pubblico trasporto. E dopodiché deciderà il da farsi. Intanto comunque l'orario è organizzato su cinque giorni, quindi da lunedì al venerdì. Il 4 di settembre